Un anziano è stato trovato privo di vita sabato scorso a Sanza, in località Santa Maria del Popolo. Intorno alle 16 sono state avviate le ricerche dopo la denuncia di scomparsa da parte di alcuni parenti dell'anziano. Decine di volontari che si sono messi alla ricerca e hanno ritrovato l'anziano, SC le sue iniziali di 86 anni, purtroppo privo di vita, morto a causa di un malore, come accertato dalle forze dell'ordine che hanno effettuato l'esame esterno del cadavere. Le ricerche sono state coordinate dal comando Stazione Carabinieri di Sanza e dal maresciallo Vincenzo Manduca della Polizia Municipale, dopo la denuncia appunto da parte di alcuni parenti che non vedevano l'anziano da diverse ore. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria del cimitero di Sanza per la ricomposizione e poi restituita alla famiglia. Grande è lo sgomento fra i cittadini di Sanza che conoscevano l'anziano ed era ben voluto da tutti, soprattutto nel centro storico dove abitava. Grazie.